Sì, grazie. Sì, dove? Sì, arriva al pannello. Non ho detto di fare il pannello più alto? Esatto. Sorvola il pannello. Grazie. Scusate. Siamo apprezzando. Stiamo occupandoci di questo tipo di... A destra, Fabio. Fabio a destra. A sinistra, grazie. Adesso. Per spalla vi prendete in braccio. Spalla, spalla, spalla. Spalla, spalla che è meglio. Spalla, spalla. Ecco. Fabio, Fabio. A sinistra ancora, grazie. Di fronte, in basso. Troppo, troppo. Troppo, centro, grazie. Guarda il palo. Adesso. Sandro. Guarda il sinistra. Da in posizione, da in posizione. Ai polmetti. Ai polmetti. Allora, stanno muovendo. A centro in basso. No, in alto. In alto in basso. C'è in alto in basso. Sinistra, grazie. Centro, cento. Centro in basso. Centro in basso. Centro in basso. Centro in basso. Sinistra, sinistra. Arco tra il volto. Colmetti. e tutti attorni da e c'è tantissimo, c'è anche un bel prima di festa lo guarderemo avanti ma non avrete in un grande c'è un bel prima di festa perché ci siamo vent'anni allora, allora, stagione futura intanto buongiorno a tutti e grazie di essere qui oggi facciamo ancora in luce e io sono la prima a parlare per cui ho veramente l'onore di iniziare questi festeggiamenti dei nostri vent'anni, dei vent'anni di Sky mi presenteremo tante, tante novità